Chiedono interventi di manutenzione per migliorare le condizioni del manto stradale, oltre che della segnaletica verticale e orizzontale, i residenti della zona di contrada La Spia. Un'arteria fondamentale per la viabilità in entrata e in uscita da Caltanissetta, visto che si tratta di fatto di un tratto della statale 122 bis in prosecuzione di via Borremans, la quale collega la città al bivio verso la bretella della statale 640, che a sua volta è il collegamento per gli ingressi dell'autostrada A19 Palermo-Catania, oltre che per Santa Caterina. Segnalazioni che arrivano dal presidente del comitato di quartiere Mangialasagne Salvatore Scarpulla e dal rappresentante del comitato spontaneo La Spia Santuzza Vincenzo Mattina. Entrambi hanno sottolineato la presenza di buche a vallamenti piuttosto pericolosi lungo il tratto di strada interessato, ma i problemi non finiscono qui, visto che nella zona sono presenti anche erbacce ai margini della carreggiata che andrebbero estirpate e negli anni scorsi infatti si sono anche verificati degli incendi. La carreggiata è inoltre piuttosto stretta e questo finisce per rendere meno agevole la viabilità, visto che sulla SS 122 bis transitano anche autobus e camion con stazza superiore alle 20 tonnellate.